la base missilistica russa lituania si smessa nel 70 più o meno utilizzata durante la guerra fredda c'erano ben quattro missili nucleari che ciascuno avrebbe potuto radere al suolo una città e praticamente il museo della guerra fredda è dentro la base missilistica rismesso molto interessante molto inquietante cimeli un'istanca palla eccolo qua stupenda questo è inquisantissimo è tendenzialmente un museo che non si schiera né contro né pro russia o stati uniti ma sicuramente il museo pacifista qua c'è il silos aiuto dove veniva inserito il missile che aveva cambiato ogni sei mesi per fortuna mai questa botola non si è mai aperta altrimenti non saremmo qui a parlarne e qua c'è dentro c'è il missile per farmi fare tutto il giro aiuto bellissima il missile un po' paura un po' paura un po' paura un po' paura la fine distanza ma per la casa di un po' paura di un po' paura e tutto dovrà essere questo come una decisione anch'io che si rimediamo quello che ho dovuto non non ci stare Il museo è veramente assurdo. Andiamo a destra. Vicino al lago, tra l'altro, meraviglioso. Ecco qua. Da fuori invece sembra una cosa tranquilla, neanche piuttosto impattante. Eccoli qua. Uno, due, dietro c'è un terzo e poi il quarto. Pronti a partire e distruggere. Basso nucleare.